una pallina da tennis non ci posso credere c'era una pallina da tennis che è rotto l'accesa da sotto da qua inizia spero di non cagarmi troppo 558 l'accesa da sotto wow se mi cago scendo no questo è brutto albero malefico un altro pezzo di questo coso ok un altro pezzo un altro pezzo un altro pezzo un altro pezzo bisogna sapere che cosa sono un altro pezzo un altro pezzo Sì, sì. no